Sarà un qualcosa di soddisfacente o sarà l'ennesima delusione da parte della casa cinese? Allora, nel dubbio io mi sono munito di tutto l'occorrente, va bene. Forse non è il metodo migliore per testare HyperOS, ma sti cavoli, adesso vi spiego un attimo come ho fatto. Qua dentro abbiamo il nostro carissimo Mi 11. Che cosa me ne faccio di un device come lui? Soprattutto, insomma, siamo arrivati a Xiaomi 14, 14 Pro, bene. Diciamo che quel device, specialmente nella variante cinese, non ce l'ho. Non voglio nemmeno averlo, per carità, voglio aspettare di avere tutto quanto in versione, come dire, europea. Ma nel mentre ho messo un port di HyperOS, che tra l'altro è la versione 1, a quanto pare, che deriva proprio da Xiaomi 14 Pro. Insomma, è un port, ripeto, quindi magari alcune prestazioni potrebbero non essere al top, comunque non è ottimizzato, non è una ROM pensata per questo telefono. Però è basata sulla cinese, che al momento è l'unica disponibile, no? Quindi cosa ho fatto? Ho confrontato HyperOS cinese con MIUI 14 cinese, ok? E per un buon motivo, perché volevo capire un po' le migliorie, ok? E perché non ho usato a confronto con HyperOS cinese l'europea? Per il semplice fatto che potrebbero esserci delle mancanze. Ma di questo ne parliamo tra poco, quindi state con me fino a fine video, mi raccomando, ovviamente iscrivetevi al canale. Pesa 13.45 giga, qui c'è un primo divario, diciamo, rispetto a quanto dichiarato da Xiaomi, 8.75 giga, che quindi l'ha spacciato come il sistema operativo più leggero in assoluto in ambito mobile, ma in effetti è tra i più leggeri sicuramente. Forse questo fatto che pesa anche di più è perché appunto è un port, quindi vabbè, sorvoliamo. Basato su Android 14, quindi ho fatto fare al mio MIUI 11 un salto di una versione, perché lui diciamo di norma con MIUI 14 è fermo ad Android 13. E le novità che porta a questo nuovo sistema dovrebbero essere molteplici, ha detta di Xiaomi, con molte modifiche sotto al cofano. Allora, innanzitutto parliamo un secondo di novità riscontrabili, pratiche, anche estetiche, se vogliamo, nuova lock screen che è in stile iOS. Qui i ragazzi l'hanno copiata, solo che la disposizione è in verticale anziché in orizzontale. Posso modificare l'orologio, ha delle ottime animazioni, cioè ragazzi, è senz'altro ben fatta. Se metto anche per esempio una foto mia con effetto, come dire, sfocato se vogliamo, nel senso il testo gli va dietro l'orologio, l'orologio lo posso modificare. Cioè, nulla da dire. Da questo punto di vista ce ne sono tra l'altro un sacco, proprio per tutti i gusti. Poi abbiamo un control center che rimane in stile iOS, ok? Come era con MIUI 14, però abbiamo degli aggiustamenti per quanto riguarda i quick toggle spostati, risistemati. Ok? E abbiamo, attenzione, finalmente la possibilità di copiare elementi da foto. Quindi generare un file PNG con sfondo trasparente, oppure cambiando il colore dello sfondo, la texture di sfondo, oppure appunto salvarlo così com'è scontornandole. Quindi per esempio possiamo poi creare degli sticker, diciamo, nelle varie applicazioni. Insomma, quindi come fa Apple all'incirca, come fa anche One UI, per esempio. E ora possiamo usare due app in Split View con una terza flottante, quindi di fatto abbiamo tre applicazioni che vengono eseguite insieme, potrebbe essere interessante. Abbiamo una nuova animazione in ricarica, molto, molto carina, mi è piaciuta tantissimo. E tantissimi qua ritocchi grafici per quanto riguarda animazioni di sistema che sono di base le stesse. Secondo me, anche vedendolo un po' a rallentatore, sono state un attimo, come dire, migliorate nella visualizzazione. Ah, ma una cosa, ma tu non sei all'interno del Grand Privé su Telegram, il mio gruppo Telegram entra subito così chattiamo insieme e entra anche nella Grand Boutique. Così se ti serve qualche sconto su Amazon, là c'è tutto. Vabbè, andiamo avanti. Ma io quello che mi sono chiesto è, ma tutte queste novità arriveranno in Europa, arriveranno con la Global, con la EEA, insomma, boh, e chi lo sa ragazzi. Fintanto che non uscirà ufficialmente non ci ha dato saperlo, ok? Una parte di me pensa di sì, perché comunque vedete che non sono aggiunte novità, insomma, importanti nel senso tante variegate. Non c'è uno stravolgimento da questo punto di vista, ok? Però abbiamo già visto differenze, tutt'ora ce ne sono, insomma, tra la versione cinese della stessa MIUI e la versione europea o global, ok? Per esempio, 14, China, ha molti dei nuovi widget per le app Xiaomi che invece noi europei non abbiamo. Non abbiamo nemmeno le app dinamiche, non abbiamo nemmeno Xiaomi, che è l'assistente vocale, vabbè, poco male. Non abbiamo la sezione Mi Smart Hub, che è come Quick Toggle all'interno del Control Center, per esempio, no? Queste cose ci sono anche su HyperOS e quindi vediamo se le aggiungeranno finalmente anche, insomma, per noi europei con HyperOS, appunto. Perché non sono, diciamo, aggiunte che hanno un senso da una parte e non dall'altro. Cioè, perché io non dovrei poter beneficiare dei widget Xiaomi e invece i cinesi sì? Cioè, non ha senso questa cosa, io non lo comprendo. Quello che però vorrei comprendere è se, al di là di tutto ciò, HyperOS potrà portare alla risoluzione di tutta una serie di bug, dei problemi, che ha la MIUI 14 all'attuale. Per esempio, il bloatware, cioè con la versione europea, che ha molto più bloatware di quella cinese, va detto, continuava di installare le app, sempre bloatware, e ne apparivano, però mi si installavano davanti agli occhi. Io ero lì che non sapevo più cosa fare, che chiss'anti invocare. Oppure update bugatti che magari bricano il telefono, oppure proprio non arrivano. Oppure dei bug grafici o dei settaggi che non si inseriscono correttamente. Una gestione della memoria fin troppo conservativa, secondo il mio parere. Un po' in stella iOS anche qui, perché Xiaomi si rifà tanto alla mela. Una lentezza nell'aggiornare la versione di Android o nel ricevere gli update, insomma, perché Xiaomi va a scaglioni, ma si prende tutto il suo tempo, fin troppo. E discrepanze funzionali, appunto, tra versioni regionali diverse. A fine video potrò finalmente rispondere a tutti questi quesiti, se sì o no, oppure vedremo. Innanzitutto, ne ho approfittato per fare dei benchmark e dei test, perché volevo capire le prestazioni supportate da dei numeri. Ricordo, è un port, non andrebbe fatto, è vero, però ero curioso di vedere intanto come performa, non nel best scenario ever. E devo dire, ho fatto benissimo. Al di là delle temperature, che come vediamo sono maggiori quando vado a eseguire lo stesso task su HyperOS rispetto a MIUI 14, abbiamo una discrepanza anche abbastanza forte in termini di gradi centigradi, ok? Ma questo può anche derivare dal fatto che, a quanto pare, hanno fatto delle modifiche al kernel, che a detta di Xiaomi è anche, come dire, migliore adesso rispetto a quello di Android originario. Cioè, questa è una dichiarazione molto forte, ok? Vedendo anche i pixel. Però, 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 non partiamo prevenuti, andiamo avanti nei test. Ho fatto un benchmark di browsing. E qui, attenzione, HyperOS ha qualche punticino in meno, ma davvero poca roba, contando che è un port, tenderei a metterli tranquillamente sullo stesso piano. Attenzione, però, perché le cose migliorano sempre di più con Geekbench, sia in CPU che in GPU, abbiamo punteggi maggiori. E la stessa cosa si ripercuote anche con 3D Mark, a favore completamente per HyperOS, sia in termini di punteggio che in termini di FPS, soprattutto. PC Mark, la stessa identica cosa, un bel balzo in avanti. Vediamo il render in 4K. Qua si equivalgono tutte e due nel tempo di accensione che Xiaomi ha vantato, anche in fase di presentazione, molto rapido, perché il sistema anche pesa meno. Allora, questo pesa oggettivamente di più rispetto a quello che ha detto Xiaomi. E infatti, insomma, la discrepanza, come vediamo, c'è. Quindi può essere questo, diciamo, il problemino. Magari, in realtà, con la versione ufficiale questo non accade. Andando avanti, anche nell'avvio app, che secondo Xiaomi doveva velocizzarsi e tutto, non è che abbiamo chissà che discostamento particolare. In realtà, anzi, abbiamo un lieve peggioramento. Invece, nella gestione del multitasking, mi sembrano, come dire, allineati in termini di quantitativo di applicazioni che riescono a tenere in memoria senza chiuderle. Quindi, devo dire, a me sembra che i miglioramenti ci siano tutti. E non me li aspettavo, devo essere sincero, soprattutto pensando alla ROM che ha a bordo, che non è ufficiale. E questo nuovo sistema operativo, tra poco capirete, ha risolto, quindi, i problemi di MIUI 14. Blotware, allora, non ne ho notati su di lui, però è unofficial, è un port. Può essere che chi ha creato questa ROM abbia levato le app inutili. Bravo, bravo! Update in ritardo, è ancora presto, chiaramente, per dirlo. Bug grafici o settaggi sminchiati, non ho notato nulla di, come dire, scandaloso particolare o da segnalare. Gestione della memoria, è ancora presto per dire se è migliorato, se è meno conservativa. Ma, diciamo che, nell'utilizzo, mi è sembrato un po' più snello, anche nel cambio app HyperOS rispetto a MIUI 14, però anche qui è unofficial. Lentezza nell'aggiornare la versione di Android, questo non ve lo posso dire ancora. Discrepanza tra cinese ed europea, chiaramente, siccome esiste solo la cinese per il momento, non ve lo so dire, bisogna aspettare la release ufficiale. Avendola anche installata su questo Redmi Note 7, perché c'è un port anche per lui, è incredibile questa cosa, come la community si dia da fare per tutti questi esperimenti. Perché un nuovo sistema operativo? Perché l'hanno chiamato HyperOS? Perché partono dalla versione 1? Perché basta MIUI? Credo di avere una risposta, o, come dire, delle ipotesi. Innanzitutto, il problema enorme della meme UI. Cioè, ormai c'è questo nomignolo, come dire, che si sono auto-inflitti, per quanto mi riguarda. Quindi, per fare una sorta di rebrand, per dire, per dare un segnale del tipo, ok, basta, noi ci dissociamo da quella roba lì, partiamo da capo, partiamo riscrivendo alcune parti del sistema. Questo l'ha detto Xiaomi, a quanto pare ha riscritto delle cose. Allora, allora, va detto che HyperOS è basato su Android 14, quindi già qui, nuovo sistema? No, non lo è, non lo è. A quanto pare, Xiaomi ha integrato Vela, una sorta di piattaforma di software IoT, con, di base, sistema operativo open source NATX. E quindi hanno preso, diciamo, questa sorta di esperimento che è durato vari anni, mettiamola così, e hanno riscritto, da quanto ho capito, la parte, diciamo, più che altro di rete, di gestione di rete del sistema operativo HyperOS. Possiamo dire, hanno integrato Vela, hanno dato maggior terreno fertile a applicazioni IoT, perché comunque Xiaomi, ok, ha i suoi telefoni, ma ha un ecosistema di prodotti smart che è infinito. Cioè, parliamo di più di 200 categorie di prodotti, è tantissimo. Perciò, nuovo non è, ma neanche tutto questo terreno fertile per device IoT l'ho riscontrato almeno per ora. Io comunque, per, non so, accendere una lampadina o dare possibilità al telefono di apprendere dalle mie abitudini, facendo in modo che, per esempio, quando sblocco una serratura smart, automaticamente mi accende la luce del salotto, perché, secondo Xiaomi, sarà in grado di fare questa cosa HyperOS in futuro, ma io comunque devo avere l'account Xiaomi collegato dappertutto, sul telefono, sulla lampadina, eccetera. E io ho comunque 30.000 app da poter utilizzare Mi Home, Mija, Yi Lite, cioè è comunque super frammentato per quanto mi riguarda, ed è un disastro. Cioè, Xiaomi sta facendo io tutto per integrare tutto quanto su Mi Home, però secondo me la strada è ancora un po' lunga, quindi non lo so questo Xiaomi vela quanto abbia effettivamente portato di buono, quanto abbia spinto in là il discorso IoT, che tra l'altro ha avuto un picco qualche anno fa e adesso siamo sempre un po' lì, ok? C'è Matter, che sembrerebbe, come dire, dare un'ulteriore spinta, però via di quello non lo so. Quello che posso dire è che, se non altro, come dire, HyperOS è un sistema che integra tanti standard differenti per supportare tanti prodotti differenti in termini di, anche quantitativo di RAM che hanno, protocolli di rete che hanno. Perciò questo primo try che ho fatto, sicuramente, mi ha fatto intuire come c'è del terreno fertile per un miglioramento, specie magari per quei device che sono un po' più vecchioti, cioè nel senso diciamo, ce l'hai, dai. Ma secondo me è una totale scammata averlo chiamato HyperOS, aver, diciamo, averlo spacciato come nuovo sistema operativo, che porta a una nuova esperienza utente, perché secondo me questo non c'è, almeno per il momento io non l'ho visto. Ho visto una migli UI, sicuramente potenzialmente migliorata, ma, insomma, nient'altro. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Tutti pronti a marzo, entro marzo 2024, dovrebbe arrivare in rollout su, perlomeno, i device più recenti. Poi anche qui, a scaglioni, si prenderanno i loro mesi, i loro anni per rilasciarlo gradualmente. Boh, chi lo sa, vedremo. Se ho qualche info in più sui device effettivamente supportati, una bella listona, ve la lascio in descrizione, ma non vi prometto nulla, perché non si capisce niente. D'altronde Xiaomi, e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto, ciao!